Justizia E' uscita finalmente la tanto agognata Sfida del team of this Un garantito della Premier League Sto registrando domenica sera E' uscita praticamente meno di un'ora fa Ma che cosa faremo prima? Andremo ad aprirci questo pacchettino Che mi dà dei feels non indifferenti Pacchetto giocatori premium Premier League Questi qua erano gli stessi Che l'anno scorso Che adesso non mettono più bastardi Mettevano nelle SBC Cioè tu davi 11 giocatori oro rari Ti davano un pacchetto giocatori oro premium Della BPL Non l'hanno messi nell'SBC L'hanno messi qui nel negozio Ce li apriamo perché sono tutti Premier League Quindi se ti esce una lavagna Non dico che è buone probabilità che sia TOS Ma quasi ti ci avvicini insomma Quindi proviamoci Li apro con i crediti Non vado a spendere altri free points Perché vedrete successivamente nel video Quanti ne ho spesi Quindi eviterei Però ragazzi Diciamo che finora mi sta andando abbastanza bene Più che abbastanza bene Con questi TOS della Premier League Quindi dubito che oggi Che in questa prima parte di video Sculeremo ancora Proprio perché sto sculando Veramente come un maiale incredibile Quindi la vedo difficile Mi sta andando fin troppo bene Andiamo col secondo pacchetto Che non ci dà le lavagne Ovviamente qui è difficile trovare lavagne Essendo pacchetti Non così emozionanti Solo dei giocatori rari Però se la trovi Se la trovi ragazzi È interessante È interessante Ovviamente la cosa più interessante Di questo video È il pacchetto TOS che andremo ad aprire E poi quello che vedrete dopo Però noi ci proviamo Non se ne sa mai Che qui se sbagliano Ci danno una lavagna blu Li sto prendo proprio a ruota Giusto perché voglio andare A far subito l'SBC E via Intanto è la lavagna Questa attenzione Ok mi ha subito smentito Perché ci ha dato una lavagna Che non è team of the season Vediamo un po' Magari un po' Ogba No difensore centrale Kossielni Kossielni Va bene va bene Diciamo che poteva sicuramente andare meglio Diciamo che poteva essere sicuramente Una lavagna blu Dello che ce ne stanno 23 Però non ci lamentiamo Sempre Kossielni Va bene Scartiamo tutto Dai andiamo col quinto pacchetto E darci un'altra lavagna Perché questa se è lavagna Non è lavagna Dai lavagnaci però bro Cioè abbiamo 5 pacchetti Un'altra lavagna Giusto per farmi emozionare Al volo proprio Eccola qua È TOS No Come on man Come on però Dai una lavagna blu Ancora Kossielni Ah no è la porta Ok Dai per favore Frate c'è la lavagna Ho detto che se la lavagna è buona Però probabilmente è blu E non è You fucking You prick You Eh mustace Regà ma Ci aveva pure fatto Ci aveva fatto Ci avevo creduto Ci avevo creduto Vi dico la verità Bobby Ah no davvero Bobby non ce sta Gabriel Jesus Bobby e TOS Magari a trovarlo Che è una bestia Allora Allora Andiamo qui SBC TOS È il momento SDST Premier League Speriamo bene Allora Squadra da stagione Esattamente 1 Non è un problema Ci do questo Powell 83 Senza alcun tipo di Remora Perché è veramente scasso L'intesa deve essere 70 Quindi ho dubbio Ho idea che dovremmo fare Tutti della Premier League Quindi andiamo a cercare I giocatori Prima non scambiabili Dato che sono abbastanza full Di giocatori non scambiabili Anzi no In realtà no Giusto Marco Salonzo Ripperoni Ok E poi a sto punto Vado a dare tutti i Premier Perché tanto guardare Quanti 84 ho E più quelli che stanno Nella lista trasferimenti Quindi a sto punto Lo so potrei mettermi a rivelo Ma non c'ho sbatti Non c'ho sbatti Magari Valencia non lo diamo Diamo qualche 82 Tanto ci dovremmo arrivare comunque Ok 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 E ok Ok Così non ci arriviamo Vediamo se con un 83 ci arriviamo Non ci arriviamo Un 84 Ci arriviamo Ok Allora Fatta anche questa sfida ragazzi Veramente molto molto facile Basta mettere adesso i giocatori Nei ruoli corretti E dovremmo arrivare Senza alcun tipo di problema Al nostro agoniato obiettivo Eccolo qui Andiamo a confermare E speriamo bene ragazzi Allora I miei obiettivi sono Un Kyle Walker In modo da vendere Quello che ho trovato Scambiabile Tenere il non scambiabile Ovviamente Yumin Son Ok Ovviamente Kunaghero Ovviamente Bobby Firmino Ovviamente Da evitare Diciamo che il mio obiettivo È evitare Salah e Sané Perché lo è entrambi Player of the Year Trovarli non scambiabili Team of the Season Mi farebbe abbastanza urlare Ok Quindi l'obiettivo primario È evitare loro Evitare loro Intanto che pacchetti Sono usciti qua La di Rounds I 100k Sono usciti pure Fra te Guarda me ne apro uno Giusto perché sei te Ma tanto non li apro Perché questi qua Cioè Già ha modato Basta 100k Già ha modato Ragazzi È il momento Di andare ad aprire Il Toz Garantito Ok Per favore Non salah e non sané Se magari mi dai pure Qualcuno utilizzabile Magari un De Gea Che me lo metto in porta Subito Via Per favore Per favore Per favore Facci sognare Team of the Season Mamma che emozione Mamma che emozione Dimmi chi sei Dimmi chi sei Marets Ok È interessante Non è sicuramente il migliore Ma è interessante È un giocatore molto interessante Marets va bene Va bene perché innanzitutto va bene Perché non è né salah né sané E va bene Solo per quello va bene Però è interessante È un giocatore molto interessante Quindi ci sta Ci sta Dicevo Lo volevo provare Però sinceramente Era un po' in dubbio E sicuramente adesso avrò occasione Perché ci sta ragazzi Assolutamente 99 agilità Assolutamente Marets è un ottimo giocatore Sono soddisfatto Sono soddisfatto da questo pacchetto Sono soddisfatto Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ragazzi Detto ciò Io vi lascio A un estratto live Di una mia live Su Twitch Vi invito ad andarmi a seguire su Twitch Twitch.tv Slash JustEase Non ve ne mentirete Regà Tenetevi forte Andiamo Let's go Let's go 100k please 100k please 100k please Primo pacchetto Come on man Come on Let's do this Team of the season Bang AS Draxler Ci frega niente Vai 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 Come on Non deludermi Non deludermi E-sports Dai 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 Scarta tutti Scarta tutti Scarta tutti Così poi magari riusciamo a aprire qualcuno Pure quei crediti Secondo pacchetto Come on Come on Pain No No Come on Gatto back Gatto back Vieni qua Ancora Difensore centrale Gustavi Let's go Let's go Le stanno aprendo lentissimamente Quindi bro Prendiamoci il nostro tempo Chi va piano Va sano E va fucking lontano Gabriele Questi sono pacchetti da 2000 FIFA Points Lighting rounds Gabriele Ti senti fortunato? Gabriele Devi andare con Dio però Guarda dai Guarda Aprilo Aprilo Fai tutto te Anzi Fai tutto te Vai Devi toccarlo te Vai più 2001 Allora aspetta Aspetta vai Apri 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 Io non guardo Non mi devi dire nulla Devi dirmi solo la nazionalità Quando di esce Ok Non fare reazioni Non fare reazioni di alcun tipo Ne devi dire solamente la nazionalità Spagnolo No Non nel ruolo Spagnolo Ruolo Add Petro che merda Come fai a capire Spagnolo Petro Add Aspetta Aprivi un altro E questo qua era di riscaldamento Ripetta Ma fanno schifo sti pacchi Fanno schifo al cazzo Sono ridotto Che sono troppo difficile da trovare Portiere Noire No no Volevi noire Niente Il gatto Gabriele Prendilo Gatto pacco Prendilo Aspetta Gatto ti prego Dammila il tuo potele Certo capo Scaccia Oddio il gatto l'ha aperto Ti prego gatto Il gatto Il gatto No if Reaction Ma dio Cristallo dio Dio cristallo No fa schifo questo Che cazzo è questo Che cazzo è Yesports Amami Amami Fuck Fuck man Chi è Tedesco ancora Almeno dammi un Messo buo Dang Dio Non li stanno aprendo Regà Fanno schifo Lo capite che fanno schifo Dal fatto che la gente Non li apre Non li apre Non li apre Dai Dai Yeah Sì Taz 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 Chi è? Inglese Portiere più scandaloso del porco del Cristo Per Nolan Pop Mattio Il più schazzo di tutti Ah Ercasco grazie dell'ost È il più schazzo Ah Oddio È il più schifoso È il più stronzo No No Back to back Back to back È il più stronzo Back to back Sì 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 Back to back Sì Io Anami Beggio Che vita è pronti Oh mio Dio 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 Siamo grazie Siamo grazie Dopo mesi siamo ancora qua Dopo mesi siamo ancora qua KDB L'ho trovato pure Dodi Back to back Sì Sì Oh mio Dio 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 Siamo ancora qua Io e te KDB Siamo ancora qua Io e te KDB Oh shit Due dossi in one pack Sei pronto bro? Oh Sti cazzo Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Siamo ancora qua e te KDB Quanto costa? Un botto Siamo ancora qua e te KDB Siamo ancora qua e te 860.000 Back to back dosso Avevo trovato il pacchetto prima Un scandalo KDB Aaaaaaah Aaaaaaah KDB Aaaaaaah Che KDB Aaaaaaah Mada crap Ancora quattro pacchetti Back to back to back Back to back to back Back to back to back First time in the world Sì un altro dossi Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio 3 fino in un park 870 Regà Vendo? 870 Non penso di usarlo Uff 8 64 Mettiamolo 864 E' un ottimo prezzo Man Tanto non lo uso Regà Non lo uso Se fosse stato sono L'avrei tenuto Dai Ma non è che mi sto lamentare Però E' uno tra l'altro Che costa di più ragazzi E' uno di quelli Che costa di più Che costa di più ragazzi 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 Grazie a tutti.